Se i combattimenti cessano, le autorità ucraine dovranno revocare la legge marziale e indire immediatamente elezioni presidenziali. Ma hanno poche possibilità di essere rieletti. Ecco perché hanno organizzato una provocazione nella regione di Kursk. E prima d'allora c'erano stati tentativi nella regione di Belgorod. Il piano era di fermare la nostra offensiva nel Donbass. Non abbiamo avuto un tasso così alto di offensive nel Donbass da molto tempo. Dopodiché ci sarà il desiderio di passare ai colloqui di pace. Ma certo, sta andando tutto secondo i piani, no? Esattamente. Del resto ci sta, no? Queste affermazioni sono coerenti con l'andamento generale di queste nazioni, che vediamo, no? Ucraina, Russia, Belorussia. Come si vede in questa foto, per esempio, Russia e Bielorussia sono le più democratiche del mondo. Solo in Ucraina hanno la mania di cambiare le persone in carica. Che strani! Salve amici e amiche, oggi vi porto alcuni aggiornamenti e previsioni sull'andamento del conflitto. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace. Il vostro supporto è essenziale per permettermi di continuare con questa iniziativa. Più vado avanti, più scopro fra di voi persone meravigliose. E sto cercando di fare tutto il possibile per non deludere le vostre aspettative. Allora, in questa paginetta vediamo il rapporto stimato delle perdite russe ad oggi. E nei numeri a fianco vediamo quelle di ieri, cioè un solo giorno, aggiornato al 2 settembre. 1.300 soldati russi hanno perso la vita in un giorno, 26 mezzi d'assalto, 44 veicoli da trasporto e per la logistica, 9 carri armati, 10 pezzi di artiglieria, 30 droni vari, eccetera. Se guardiamo la mappa di Deep State, prima di affrontarla nel dettaglio con Mayakosk 73, vediamo che in questi ultimi giorni, nell'area del Donetsk e nella avanzata russa verso Pokorovsk, quello slancio di una settimana fa ha rallentato molto. In alcuni punti sono stati respinti, in altri sono avanzati di poche centinaia di metri. Questo punto del fronte, come sappiamo, è l'area di maggiore intensità del conflitto, ed è proprio dove la Russia ha schierato più reggimenti, dove si può parlare, per certi versi, della loro offensiva estiva. Questo punto del fronte, insomma, è l'area dove possiamo vedere i cosiddetti risultati più concreti e manifesti della reale potenza militare russa. Se parliamo di operazioni militari, almeno, e non di attacchi indiscriminati a civili inermi, come quelli avvenuti in questi giorni a Kharkiv e Sumi. Quello che non sapete, e che cercherò di dire oggi, è che dopo il video di ieri, in cui ho voluto riportare a modo mio la tragedia di questi civili colpiti a Kharkiv, ho letteralmente passato la notte in bianco, per documentarmi, per capire meglio cosa sta succedendo in Ucraina in questi giorni. E ho visto centinaia di video, di cui non posso parlare, ma che mi hanno aiutato a capire meglio e potervi fornire un quadro generale. Perciò, ecco, per tornare a questo settore della mappa, dove i soldati russi hanno preso l'abitudine di hissare bandierine sopra ruderi e luoghi totalmente insignificanti strategicamente, vi dirò che i mille e passa soldati che la Russia perde ogni giorno sono qui. Tutta quest'area è letteralmente disseminata di migliaia di soldati russi a terra. Rendono fertile il terreno, probabilmente. Vi cresceranno sopra girasoli, papaveri, per citare Fabrizio De Andrè. Secondo i telegiornali nostrani, la stampa italiana, i russi avanzano verso Pokrovsk, una città. E gli ucraini non possono farci niente. Segno di una disfatta imminente. Ma la vera storia non è questa, la vera storia è un'altra. Questo è il punto in cui vediamo in azione la grande armata russa. Impantanata in una conquista di poche decine, centinaia di metri al giorno, se non ferma, da oltre due anni e mezzo. Gli ucraini non sono stupidi, non sono ingenui. Hanno un solo lavoro da fare, un semplice obiettivo. Infliggere la maggiore quantità di danni possibile. Per ogni metro che cedono alla Russia, questa perde migliaia di uomini e mezzi, letteralmente. E li perde nei modi più disumani e cruenti possibile. Questi soldati vengono mandati avanti, con un fucile, un equipaggiamento semplice. Non hanno giubbotti in Kevlar, ma una semplice tuta mimetica sopra una maglietta a righe, un paio di mutande e due calzini. Gli viene detto di avanzare. Non hanno addestramento, per chi si vede, non sanno sparare a un oggetto in movimento. E quella guerra che stanno cercando, il cosiddetto contatto, il confronto con il nemico, gli viene sistematicamente negato. Non c'è nessun onore, nessun codice del guerriero. Nella stragrande maggioranza dei casi, migliaia di casi, una granata gli piomba addosso prima che loro se ne accorgano. Poi si trascinano agonizzanti per qualche metro e gliene piombano addosso altre. Se sopravvivono e hanno ancora le braccia o le mani, provano a farla finita, con una granata, se ce l'hanno, ma quasi mai. Allora prendono il fucile, per permettere alla famiglia di incassare l'assegno, dicono. Però, altre volte, quell'arma si inceppa. Tante volte, l'ho visto succedere. A quel punto stanno lì ad aspettare che l'ultimo carico di un drone ucraino finisca il lavoro. Tutto questo succede davanti agli occhi degli operatori ucraini di droni, che riprendono con le piccole telecamere dall'alto. I soldati russi non vedono questi droni, non li sentono, non sanno di avere dei testimoni dei loro ultimi momenti. Ogni giorno vengono pubblicati dozzine di questi eventi, di questi video, in questa parte dell'Ucraina. Ci sono soldati che vengono colpiti in questo modo mentre corrono su motociclette, su mezzi improvvisati, altre volte su questi mezzi d'assalto blindati, che poi tanto blindati non sono. Allora, con un singolo colpo, il mezzo diventa un rottame. Quelli che riescono a uscirne, o che erano sul tetto, si trascinano ai suoi fianchi. Provano a nascondersi sotto. A quel punto si presenta lo stesso copione di caccia degli operatori dronici ucraini. In alcuni punti l'efficacia dell'artiglieria e degli attacchi dei droni è così grande che i russi spariscono letteralmente da intere aree. Quando vengono inseguiti nelle case, nei ruderi, e dopo ore di osservazioni in cui non si vede più movimento, il quartiere viene considerato liberato. E così è successo a New York, a Karsnyi-Yar. Il messaggio ucraino è molto chiaro. Va bene, continuate a mandarli avanti. Siamo fortunati che il nostro nemico è così stupido. Per quanto la stagione permetta ancora di guadagnare qualche metro, i russi vogliono spingersi a Pokrovsk. Ma cosa pensano di trovare lì? La popolazione che li attende per essere liberata? Una eventuale battaglia di quartiere presso Pokrovsk potrebbe durare mesi, se non un anno, come Ardivka. E anche se la città dovesse capitolare, non sarebbe altro che un ennesimo risultato ottenuto ad un costo immane di vita umane e risorse. affinché qualche generale russo possa indossare una mostrina sul petto. Questi grandi soldati dalle brillanti menti strategiche, veterani della grande madre Russia. Mentre nelle scuole oggi, in Russia, i bambini trovano sui banchi le foto dei loro padri caduti in battaglia. Caduti, per modo di dire, perché come ho detto, quella battaglia gli è stata vietata. Gli è stato vietato quell'onore di confrontarsi con il nemico. Guardate le persone sullo sfondo, guardate i loro volti. Il messaggio ucraino è molto forte e molto chiaro. Continuate a mandarli avanti. E più avanti verranno, più sarà difficile difendere quel territorio che hanno conquistato. Più potrà essere colpito nelle retrovie. Tutte queste icone che vi mostro, di cui ho visto tutti i video, documentano sempre e soltanto lo stesso copione. Anche più a nord, le proiezioni russe incontrano fuoco di sbarramento di artiglieria ucraina. Avanzano con la fanteria in modo approssimativo, correndo lungo i filari degli alberi, dopo aver sondato l'area con ricognizioni droniche. E vengono falciati. E qui, per esempio, la vedete questa bandierina? Chiunque l'abbia issata giorno 30, oggi non c'è più. Da parte ucraina, continua il consolidamento delle posizioni e anche l'avanzata nella regione di Kursk, con tre centri abitati ormai definitivamente occupati e un allargamento ulteriore di 200 chilometri quadrati. A est di questa regione, gli ucraini hanno iniziato a spingere. Per chiudere, la sacca isolata di russi è tagliata fuori dai fiumi, dal ponte e dai ponti del fiume Seim. In tutto questo, la reazione russa è stata rabbiosa. L'aviazione, soprattutto, sta spremendo le sue ultime risorse per far piovere ordigni sulle aree urbane. Anche sulle loro stesse aree urbane. Dove, ricordiamolo, ci sono ancora civili russi. Qualche giorno fa, la stessa Belgorod è stata presa di mira. Conducono attacchi d'aria senza particolare precisione, nella speranza di colpire il nemico. Le iconcine, come vedete, dei bombardamenti sono tantissime. La VKS sta attingendo a tutte le riserve disponibili. Circola un video di Vojčask, la città famosa, ormai, per essere in una situazione di stallo da un anno. Qui, in quest'area, tutte queste icone di bombardamenti sono avvenute in pochi minuti, due giorni fa. Questa intera area è stata rasa al suolo, mentre i soldati ucraini riprendono la scena dalla distanza. L'aviazione russa ha moltiplicato la sua azione in questo mese, almeno da quando è iniziata l'operazione speciale ucraina nella regione di Kursk. Ma anche l'aviazione ucraina sta impiegando la sua aviazione. Come vedete in questo video, questa è la modalità con cui sono stati colpiti i ponti sul fiume Seim, da una bomba americana, la JDAM-ER. Questi vecchi aerei russi non hanno piloni intelligenti, non hanno avioniche dedicate a questo tipo di ordigni. Così l'operatore deve impostare le coordinate via laptop poco prima del decollo. A quel punto il MiG-29 si lancia in volo nella sua missione, raggiunge velocità supersoniche e lancia queste bombe di precisione in pieno territorio russo. Altre volte l'aviazione ucraina intercetta missili cruise e droni russi. Lo fanno anche gli aerei, lo fanno gli elicotteri. Quindi cosa accadrà adesso? La Russia stupidamente continua questa guerra di invasione. ed è evidente che non ha capito che colpire città piene di civili non fa altro che scatenare la reazione dell'Occidente, che trova immediatamente motivi molto validi per supportare l'Ucraina. E lo so, è un poco cinico dirlo, o ipocrita, quello che volete per noi occidentali che confidiamo tanto nel nostro sistema democratico di valori di civiltà e pace. ma la pace ha un prezzo per una guerra che nei notiziari è diventata un trafiletto da secondo piano. Ma a un certo punto gli ucraini utilizzeranno le proprie armi prodotte da loro stessi e lo stanno già facendo, fra l'altro, per aggirare quei veti internazionali di colpire il territorio russo con le armi fornite. E questo lo stiamo già vedendo. Con l'arrivo dell'autunno tutto cambierà per quei soldati russi al fronte. Senza viveri, senza supporto, sarà mille volte più difficile. E poi arriverà l'inverno. Gli ucraini avranno il supporto dell'Occidente. I russi si troveranno in un pantano. Ora, cari amici, a un certo punto questa guerra finirà per un motivo o per l'altro. E in tutti i casi l'unica certezza che abbiamo è che la Russia perderà. Perderà un milione di uomini, risorse, mezzi, la sua economia ormai alle ore contate e le uniche cose che guadagnerà la Russia sarà una distesa di macerie. il disprezzo di tutta la comunità internazionale, l'odio smisurato di generazioni ucraine. Questo sarà il prezzo da pagare per qualche chilometro di suolo ucraino. E così, probabilmente, e si spera con questa foto, sarà ricordato Putin nei libri di storia.